Il progetto We are Ready for the Future compie un anno e gli esiti del lavoro svolto fin qui dal liceo scientifico Redi di Arezzo, in collaborazione con le nove aziende partner e con la nostra emittente per quanto riguarda il canale formativo 217, sono stati presentati nel corso di un convegno, un'attività estremamente fruttuosa e innovativa che ha raccolto il plauso di istituti come l'Università Bicocca di Milano e l'Università Sofia di Loppiano. Gli studenti sono stati coinvolti in un lavoro che li ha impegnati in tutti i settori del mondo della produzione digitale e multimediale, da internet alla tv, passando per i social network e la creazione di blog, hanno collaborato alla realizzazione di una vera e propria rete informativa e interattiva di diffusione dei loro compiti svolti a scuola. Un gruppo di studenti, per esempio, con l'aiuto dei professori, hanno sviluppato una sitcom sull'apprendimento della matematica, altri hanno realizzato dei tutorial sulla geometria analitica, mentre gli alunni del Dipartimento d'Italiano hanno inventato un modo per diffondere i contenuti della Divina Commedia di Dante attraverso il format Ariure di Fordeel. È un lavoro importante perché vuol dire fare attività laboratoriale, vuol dire utilizzare in maniera competente certi strumenti, vuol dire imparare facendo, vuol dire mettere a disposizione di altri il lavoro che io ho fatto. Inoltre nel 2014 abbiamo l'intenzione di portare questo sui dispositivi mobili, quindi l'internet, direttamente anche con delle app specifiche per il tablet dell'internet. Grazie. 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 Grazie.